Binance sta potenzialmente bruciando trilioni di Shiba Inu in nuove monete, il che potrebbe far schizzare Shiba Inu al massimo. Se sei interessato a Shiba Inu o detieni dei token Shiba Inu, allora devi vedere questo. Quali sono le ultime notizie sulle monete Shiba Inu? Quali sono le notizie sul bruciare di Binance? E come tutto ciò influenzerà il valore di Shiba Inu in futuro? In questo video di oggi risponderò a queste domande e ti darò tutte le informazioni sul prezzo che sono appena uscite su Shiba Inu. Ho dedicato molto tempo alla ricerca per questo video, quindi assicurati di guardare fino alla fine per non perdere nessuna informazione. Prima di continuare, ricorda che questo canale offre un giveaway giornaliero di un milione di token Shiba Inu. Per partecipare basta essere iscritti a questo canale, mettere mi piace a questo video, iscrivervi tramite link in descrizione a Binx e commentare con Ash Shiba Inu. Buona fortuna, ma prima di affrontare l'argomento. Diamo un'occhiata al… È grafico. E vediamo cosa sta facendo il prezzo di Shiba Inu il 18 ottobre. Il prezzo di Shiba Inu oggi è di circa 693 unità. Il prezzo di Shiba è sceso del 2,4% nelle ultime 24 ore, con un volume di scambi di 19 milioni di dollari. Attualmente il token ha una capitalizzazione di mercato di oltre 4 miliardi di dollari, classificandolo come la diciannovesima criptovaluta più preziosa. Tieni presente che questi prezzi potrebbero essere cambiati al momento in cui guardi questo video. Questo contenuto non è un consiglio finanziario e investire nel mercato delle criptovalute è rischioso. Quindi fai la tua ricerca prima di investire. Ora entriamo nel video di oggi. Shiba Inu lancia l'account LinkedIn per Shibarium mentre le transazioni giornaliere aumentano del 200%. Il team di Shiba Inu ha lanciato un nuovo account LinkedIn per Shibarium, il cui numero di transazioni giornaliere è aumentato del 200 per 100 nelle ultime 24 ore. Il progetto a tema canino Shiba Inu ha lanciato un nuovo account LinkedIn per la sua blockchain di livello 2, Shibarium. Lo sviluppo è stato condiviso ieri da Ragnar Ship, un amministratore della comunità di Shiba Inu. Secondo Ragnar Ship, Shiba Inu ora ha due account LinkedIn ufficiali, uno per il suo progetto di metaverso Shid Metaverse e l'altro per Shibarium. In particolare, l'amministratore della comunità di Shiba Inu ha pubblicato il link all'account LinkedIn ufficiale di Shibarium, incoraggiando gli appassionati di Shiba a seguirli per ricevere aggiornamenti dal mondo professionale. Shibarium è ora disponibile su tutte le principali piattaforme social dopo il lancio di un account LinkedIn per Shibarium. La blockchain di livello 2 ha ora account ufficiali su tutte le principali piattaforme social. All'inizio di quest'anno, lo sviluppatore principale di Shiba Inu, Shoshi Kusama, ha lanciato un canale Telegram per Shibarium. Inoltre, il team di Shiba Inu ha introdotto un account X per la blockchain di livello 2. Inoltre, Shibarium ha anche un canale ufficiale su Discord con quasi 15.000 membri. Nel frattempo, è diventato imperativo per il team di Shiba Inu espandere la presenza di Shibarium su varie piattaforme di social media a causa della sua crescente adozione. Aumento delle transazioni giornaliere su Shibarium del 200% dal suo lancio il 16 agosto. Shibarium ha registrato un notevole aumento di attività, con oltre 3.480.000 transazioni elaborate e oltre 1.250.000 indirizzi che hanno interagito con la rete, producendo finora 1.180.000 blocchi. Shibarium ha un tempo medio di generazione del blocco di 5,0 secondi, che lo colloca tra le soluzioni di scalabilità Ethereum più veloci. Interessante notare che il numero di transazioni giornaliere ha registrato un aumento sorprendente nelle ultime 24 ore. Secondo i dati freschi su Shibarium Scan, il numero di transazioni giornaliere su Shibarium è passato da 10.940 a 33.500, aumentando del 202% nelle ultime 24 ore. La ragione principale di questo aumento delle transazioni giornaliere su Shibarium è il recente lancio del token Shibarium, come riportato in precedenza. Il team Shibarium ha lanciato Shibarium su Shibarium listandolo sullo scambio decentralizzato Mars Swap ieri. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati di Shiba, che si sono precipitati sul DEX per acquistare la criptovaluta basata su meme. Se stai ancora guardando, sarebbe molto apprezzato se potessi premere il pulsante mi piace. Non costa nulla e aiuta davvero a sostenere il canale. Continua a guardare per scoprire le ultime notizie su Shiba Inu e cosa potrebbe riservare il futuro per la criptovaluta Shiba Inu. Ora passiamo alla notizia principale del video di oggi. Segnale rialzista. L'aumento del low. Il tasso di bruciatura di Shiba Inu sale del 250%. Il popolare memecoin Shiba Inu ha finalmente registrato una quantità considerevole di token rimossi dalla sua fornitura circolante totale. Secondo i dati più recenti, il tasso di bruciatura è aumentato di circa il 250% nelle ultime 24 ore. In particolare, il progetto ha inviato oltre 53 milioni di token Shiba Inu a un indirizzo inaccessibile. La fornitura totale massima di Shiba Inu è di 999 trilioni e oltre il 41% di questi è stato già distrutto. Il programma mira a rendere i token Shiba Inu più rari e potenzialmente più preziosi col tempo. Shiba Inu non è l'unico progetto criptografico a utilizzare tale meccanismo. Ieri, il 16 ottobre, il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha annunciato il bruciare di oltre 450 milioni di token BNB. Per chi non lo sa, Binance, il più grande exchange di... Criptovalute al mondo è attualmente il maggiore detentore di Shiba Inu. Secondo i dati su etherscan.io, l'exchange detiene attualmente 83 trilioni di token Shiba, con un valore stimato di circa 73.850 mila dollari. Si vocifera che Binance possa implementare un sistema di bruciatura per Shiba Inu, come ha già fatto per Luna Classic. Binance ha bruciato circa 38 miliardi 800 mila Luna Classic, più della metà della fornitura totale di Luna Classic. Se Binance lo ha fatto per Luna Classic, non c'è nulla che impedisca loro di fare lo stesso per Shiba In effetti avrebbe più senso, visto che Shiba Inu è una criptovaluta molto più popolare di Luna Classic. In un mercato al rialzo, potrei immaginare che Binance implementi un sistema di bruciatura per Shiba Inu per attirare più volume d'acquisto e hype di mercato. Un sistema di bruciatura di Binance farebbe schizzare il tasso di bruciatura di Shiba, destinato a crescere nei prossimi 12... Ho mesi grazie a Shibarium, con molti progetti shariani dedicati al bruciatura dei token Shiba e il fatto che le commissioni di trading shariano siano utilizzate per bruciare i token Shiba. Penso che potremmo vedere un enorme aumento del tasso di bruciatura di Shiba nei prossimi 12 mesi. Stiamo pensando di creare un progetto di bruciatura di Shiba. Se è qualcosa che ti interessa, ti preghiamo di lasciare un commento. È ora il momento di una corsa di Shiba? L'esecuzione di successo del programma di bruciatura di Shiba Inu è stata considerata uno dei fattori che potrebbero innescare un aumento del prezzo di Shiba. Tuttavia, la criptovaluta è cresciuta solo dell'1,5% nelle ultime 24 ore e meno del 3% nell'ultima settimana. Un altro elemento che potrebbe spingere una corsa è lo sviluppo ulteriore della soluzione di blockchain di livello 2 di Shiba Inu, Shibarium. La rete ha visto la luce alla fine di agosto ed è riuscita a raggiungere molti. Traguardi nei mesi successivi. Molti dei nostri abbonati dichiarano che non venderanno Shiba per i prossimi 5 anni e ne detengono milioni perché credono nello sviluppatore di Shiba Inu e nel valore nel mondo reale di Shiba. Quanti di voi le stanno detenendo? Non dimenticate di elencare le vostre detenzioni di Shiba nella sezione commenti qui sotto. Diamo il merito ai detentori di Shiba per aver fiducia nel processo. Se stai apprezzando il video, ti preghiamo di mettere mi piace, iscriverti al canale e farci sapere nei commenti cosa ne pensi del token Shiba Inu. Assicurati anche di attivare le notifiche per essere informato ogni volta che pubblichiamo un nuovo video.